In questo momento si porta nuovamente in avanti, attenzione a Subino che giusta il pallone, lo tocca l'unice dall'indietro, prova con il mancino, inizia a piazzarla! Il gol dell'1-0 arriva adesso all'undicesimo minuto, ovviamente dai piedi dell'1-9, ma non Subino l'1-0 della Polisportiva Lazio. Attenzione Falconi, passa il pallone a Subino che se lo giusta lo spedisce sulla traversa e spera che sia lontana. Poi, salvando ancora una volta, il pallone riesce comunque a servire il compagno, attenzione a Subino che tocca di nuovo, azione bellissima, sulla destra, lo scelta, lo scelta, lo mette in piedi, ancora una volta Ubaldini. Subino, Subino di nuovo, con il destro, Subino questa volta se lo va a prendere, il gol del 4-0 e la doppia da pensionare. Il destro si entra anche a pazzare il 4-0, Marpolisportiva non omita ancora, ma rinforzata. Attenzione a Subino che porta mia palla. Pallone dentro per il 7-0. Sì, 7-0. Ormai a malapena si riesce a distinguere un gioco fermo e quando no. Sbatte le mani stizzito Simone Loriti. Subino, tancina avanti, Falconi. Vediamo se prova anche lui. Falconi verso il centro, arriva il gol di Bastianelli, il gol dell'8-0. Ma a questo punto siamo ben al di là di una partita per i tre punti e pergiungiamo lo status di allenamento per il Marpolisportiva Lazio. 8-0.